I crepuscolari. Giuseppe Antonio Borgese è un intellettuale dei primi anni del secolo, tra l'altro scrittore e romanziere. Il suo romanzo Roubaix fotografa un'epoca particolare della nostra storia, quella del primo dopoguerra. In una recensione delle poesie di Marino Moretti sulla stampa torinese nel 1910 usò per primo il termine crepuscolare per cogliere il tono basso, dimesso, tipico di quelle liriche. Si trattava insomma di poeti al crepuscolo di una civiltà, al tramonto di una civiltà, tipicamente decadenti quindi. Il movimento si sviluppò nei primissimi anni del Novecento, a partire dalla pubblicazione di Armonie di Govoni nel 1903 fino a quella dei Colloqui di Gozzano nel 1911, una stagione breve. Infatti, travolti dalle malattie non solo morali, ma anche fisiche e mortali, e dalle vicende belliche degli anni a seguire, i poeti crepuscolari spensero presto del tutto la loro già labile, flebile, debole voce. Se futuristi e crepuscolari appaiano accomunati dall'anticonformismo, cioè intendono porre un'alternativa al conformismo borghese, sono avanguardie di inizio secolo in un certo senso complementari l'una all'altra, per altri versi il crepuscolarismo rappresenta l'esatto opposto del movimento futurista. Infatti, i crepuscolari esprimono un netto rifiuto del militarismo e della aggressività di marca futurista, e reagiscono alle crisi del positivismo e delle certezze ottocentesche ripiegandosi su loro stessi, non con l'azione quindi, come avevano fatto i futuristi, con i manifesti, con i proclami, con l'intervento in guerra, ma ripiegandosi nell'interiorità e nella cerchia ristretta di amici. Alcuni filosofi che hanno notevolmente influenzato i crepuscolari, come Schopenhauer e Nietzsche, considerano la realtà qualcosa di incomprensibile, misterioso, caotico e irrazionale. L'uomo, a cavallo tra 800 e 900, si riconosce malato, inetto, sofferente di solitudine e divorato dell'angoscia. In questo possiamo trovare analogie e punti di contatto con l'opera, per esempio, di Italo Svevo. Passiamo adesso a vedere dove si è sviluppata questa corrente letteraria e poetica. Ha avuto tre centri. Torino, con Guido Gozzano e altri poeti minori, accanto a lui. L'Emilia, con Marino Moretti e Govoni, quest'ultimo influenzato anche dal futurismo. E Roma, con Corazzini. Il primo autore di cui parliamo, di cui leggiamo dei testi, è Guido Gozzano. Guido Gozzano, abbiamo detto torinese, formato alla scuola di Gabriele D'Annunzio, ne ha assorbito il gusto per una poesia raffinata e borghese, in quanto appunto alla borghesia apparteneva Guido Gozzano. Ma ha poi tradotto in chiave ironica all'eredità d'Annunziana, mettendo in ridicolo i miti borghesi del matrimonio, certo questo l'avrebbe fatto anche D'Annunzio, ma anche, con una sottile auto-ironia, ridicolizzando l'aristocratico distacco dell'intellettuale. Insomma, Gozzano è legato affettivamente al mondo borghese, ma questo mondo borghese non può più offrire all'intellettuale chiavi di volta per la comprensione della realtà. Di fronte a questo, il poeta si rassegna, rinuncia a proclamarsi vate o profeta dell'estetismo, come aveva fatto D'Annunzio, anche se qua e là affiorano lo snobismo e l'eccentricità d'Annunziane. Le sue poesie sono lunghe, discorsive, descrittive o narrative che siano, hanno ben poco di poetico, sembrano storie in versi, dipingono con tratti umoristici il mondo e i personaggi cui Gozzano è affezionato e legato, ma per i quali dimostra un distacco canzonatorio. Il passato è revisitato con un misto di nostalgia e di patetica pietà.